Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo, ben ritrovati nel disordine della mia libreria. Allora, 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 cari signori, cari signori, cari signori, una cosa che colpisce nella storia della nostra aeronautica militare, della regia aeronautica militare italiana durante il secondo conflitto mondiale è, se vogliamo, l'eccesso di prototipi, chiamiamolo così, l'incapacità fisica di tenere dietro alle necessità della guerra. Per tutta la durata della guerra, la regia aeronautica cercò disperatamente di produrre uno Zerstörer alla tedesca, un distruttore, un caccia pesante. Quello che per i tedeschi era il Meshesmi 110, quello che per gli alleati fu o il Moschito, o, per esempio, anche il Westland Weirwind, che era un piccolo bimotore poco noto, ma del quale dovrò parlare, perché era un aero estremamente interessante. Il concetto di caccia pesante era un concetto estremamente interessante. Il concetto del caccia bimotore, che doveva funzionare come caccia di scorta per le formazioni di bombardieri, che doveva funzionare come incursore a lungo raggio e anche come distruttore di bombardieri. Lo Zerstörer, questo qui. Gli italiani non furono mai in grado di metterne uno in servizio. Ci furono dei tentativi con il Fiat Cansa F-C20, che però era assolutamente fallimentare. Altrettanto fallimentare fu il Savoia Marchetti SM89, di cui aerei a cui ho dedicato anche un video. Decisamente migliori e decisamente più promettenti erano due aerei che erano un po' la copia del Lockheed P38 Lightning. Indubbiamente, a spanne, ma quasi sicuramente, il caccia pesante migliore di tutta la guerra. Il P38 Lightning ispirò due aerei italiani. Lo SM-91, eccolo qui, lo SM-91 e lo SM-92, che come vedete differiva dall'altro perché al posto di avere la gondola centrale aveva il posto di pilotaggio spostato sulla fusoliera di sinistra. Insomma, due aerei interessanti, due aerei promettenti, due aerei che promettevano di essere potenti e dannatamente armati. Praticamente nel 1939 la CIA Marchetti presentò il progetto SM-91 redatto sotto la responsabilità dell'ingegner Marchetti relativo ad un trimotore dotato dei Daimler-Benz DB-601A. Il progetto fu giudicato idoneo e il 7 settembre del 1939 furono ordinati i prototipi con le matricole militari 433 e 434. Allora, nello stesso periodo il Consorzio Aeronautico, cioè il sindacato delle industrie aeronautiche italiane, chiese alla CIA Marchetti di sviluppare un bombardiere leggero ricognitore da offrire sui mercati internazionali in concorrenza con aerei quali il Fokker G1, il Poté 631, il Messerschmitt 110 e similare. Allora, l'azienda rispose con l'OSM88 che in pratica era un SM-91 bimotore. La ditta si trovò così a sviluppare due tipi simili contemporaneamente e come sempre non ci riuscì. Che vi devo dire? Purtroppo si era fatto il passo troppo più lungo della gamba. La regia aeronautica, che con la dottrina valle lasciamo perdere le continue richieste di piccole serie, di tanti prototipi, come ben sapete, e la regia aeronautica ne appoggiò ora uno e ora l'altro fino a quando il 15 dicembre del 1942 giunse la disposizione di sospendere l'SM88 e di procedere soltanto con l'OSM91. Allora, il primo SM91 con la matricola militare 530 era una sorta di lightning italiano biposto, la struttura bifusoliera. Eccola qua. L'evidente influenza del progetto della Lockheed. Ok? Eccolo qui. Questo avrebbe dovuto essere lo SM-91. Ok? Allora, lo SM-91 era questa sorta di lightning italiano equipaggiato con due motori Daimler-Benz DB605A1 i classici 12 cilindri AV rovesciati raffreddato a liquido da 1475 cavalli abbandonata finalmente la costruzione in linea L'aereo era realizzato integralmente in legra leggera con un poderoso armamento di ben 5 cannoni da 20 mm con predisposizione per un sesto e un'eventuale arma per la difesa del settore posteriore. Il primo volo avvenne il 10 marzo del 43 a Vergiate, provincia di Varese con il collaudatore Aldo Moggi e l'SM-91 rimase presso la ditta totalizzando 27 ore di volo fino al momento in cui il 12 ottobre fu prelevato a Vergiate da un pilota tedesco e il prototipo non si sa che fine abbia fatto. La documentazione riporta notizie relative ad un secondo SM-91 collaudato il 10 luglio 1944 da Aldo Moggi segno che la commissione di controllo tedesca che imponeva alle nostre ditte di fabbricare quello che serviva ai tedeschi aveva ritenuto il programma meritevole di prosecuzione. Il 27 dicembre, sempre del 1944 questo prototipo, forse siglato con la matricola militare 532 fu distrutto da un bombardamento. Era un aereo che oltre all'eccezionale armamento di 5 cannoni da 20 mm più la predisposizione per una sesta arma diciamo, raggiungeva una velocità massima di 575 km orari a 6700 metri saliva a 6.000 metri in 7 minuti e 40 secondi aveva una tangenza pratica di poco meno di 11.000 metri un raggio ad azione di 720 km con una autonomia di 1.600 oltre, eh, dimenticavo e poteva anche portare 1.640 kg di bombe insomma poteva essere un aereo promettente ma come sempre come sempre come sempre troppo poco troppo tardi e troppo tempo perso eh che vi devo dire? poi il come dire un altro sviluppo di questo lightning italiano fu l'OSM 92 alla fine del 1942 la regia aeronautica propose agli uffici tecnici di esplorare configurazioni bifusoliera tipo quella del Mesh Smith eh BF 109Z o giusto appunto del lightning americano e le risposte furono svariate il Fiat G58 il Caproni CA 380 Corsaro il Reggiane 2005 bifusoliera che non si alzarono mai dal tavolo dei progettisti che rimasero solo dei progetti ok e l'unico di questa specifica a vedere la luce fu il Siai Marchetti SM 92 che in pratica era uno SM 91 alleggerito e privo della gondola centrale eccolo qui si vede allora lo SM 91 lo SM 92 scusate aveva anche un altro armamento perché al posto dei 5 o 6 cannoni del 91 aveva 3 cannoni da 20 mm e 5 mitragliatrici Breda Safat da 12,7 una delle quali in posizione telecomandata al centro del piano di coda orizzontale ecco si dovrebbe vedere qua l'alloggiamento eccolo qui ok e allora dato il continuo scambio di denominazioni tra SM 88 91 e 92 è difficile stabilire gli aspetti burocratici dell'ordine ma sembra che la direzione generale delle costruzioni avesse richiesto un prototipo con la matricola militare 531 il 15 dicembre 1942 l'aereo al momento dell'occupazione tedesca era ancora in costruzione ma ne fu autorizzato il completamento e il prototipo poteva volare il 12 novembre 1943 sempre avergiate sempre pilotato da Aldo Morgi l'attività di collaudo andò avanti fino al 17 marzo 44 quando l'SM 92 fu attaccato per errore da un macchi C205V dell'aeronautica nazionale repubblicana il cui pilota non lo aveva identificato e non aveva visto le insegne tedesche che oggettivamente siamo sinceri vedi un bifusoliera volare nei cieli pensi a un lightning e la prima cosa che fai è sparare come se non ci fosse un domani anche se dopo tiri giù un aereo amico dicevo il bimotore l'SM 92 compì un atterraggio di emergenza a Lonate Pozzolo dove rimase circa tre mesi a terra per le riparazioni rientrato a Vergiate nell'estate del 44 l'SM 92 compì ancora attività di volo fino a quando fu distrutto dal bombardamento del 27 dicembre 1944 eccone qua un'altra foto di coda ecco qui dove si vede anche la postazione posteriore dell'arma telecomandata nel piano di coda eccolo qui questa era praticamente qui praticamente ci sono c'è la sistemazione delle bombe come vedete perché poteva svolgere anche la funzione di bombardiere leggero e questa è una foto dell'abitacolo eccolo qui dicevo era un aereo che ripeto armato con tre cannoni da 20 mm 5 mitrali elettrici da 12,7 e 1640 kg di bombe che ne avrebbero fatto un buon incursore un buon bombardiere leggero un buon aereo d'attacco un intercettore di bombardieri insomma una velocità massima di 615 km orari 7 minuti e 10 secondi per salire a 7000 metri una tangenza pratica di 12000 metri un raggio d'azione di 900 km e un'autonomia di 2000 insomma un aereo dalle prestazioni promettenti un aereo dalle prestazioni a dir poco eccezionali ma ahimè ahimè signori come sempre troppo poco come sempre troppo tardi come sempre la nostra industria fu incapace di sviluppare i suoi eccellenti progetti di sviluppare i suoi eccellenti prototipi avrebbe potuto fare qualche cosa beh signori sicuramente sì l'aereo era ben armato i resoconti ne parlano come di un aereo che volava bene con pochi difetti relativi cioè insomma nessun aereo si dice scherzando che nessuno al mondo nasce imparato nessun aereo nasce perfetto i difetti degli SM 91 e 92 potevano essere tranquillamente risolvibili in poco tempo ma come sempre come sempre i ritardi delle nostre produzioni aeronautiche il ritardo tecnologico e di mentalità della nostra industria e anche della regia aeronautica non portarono mai nelle linee di volo della nostra aeronautica insomma della regia aeronautica non portarono mai in linea di volo né l'OSM 91 eccolo qui di nuovo nelle tre viste né l'OSM 91 né l'OSM 92 insomma aerei che potevano essere validi aerei che praticamente non videro mai la luce tutto qui quindi come sempre cari signori aspetto i vostri commenti aspetto le vostre considerazioni come sempre arrivederci al mio prossimo video come sempre cari signori ciao ciao